tredicesima giornata nel girone a grande sfida tra il puma team secondo in classifica con 25 punti e caraccio al service che insegue con una partita in meno a meno tre viganò vede sacchitella fuori dai poli lo beffa con un super goal segnato viganò tessarine riparte da viganò apertura di prima ancora tiro che da un bacio al palo 20 il puma nel giro di 40 secondi da parte di pianta ancora palla lunga le spalle della difesa tessarine va a sbattere su sacchitella bravissimo in uscita poi caracciolo sulla linea pulisce l'area di rigore cross dentro con deviazione fortuita di viganò conversa per pianta che si gira vuole chiudere il triangolo con tessarine si presenta in area di rigore conta rimbalzi e fredda sacchitella in uscita caracciolo passa poi dare manforte si apre la strada per il tiro facile di colabella gol del 3 1 con caracciolo service parte il numero 11 con il destro apre il piattone nel giro di 5 minuti la ufficialmente riaperta caracciolo glaciale con la bella punizione caracciolo col destro stampa sul palo per ego cambia passo poi dall'altra parte sponda per colabella che quasi a botta sicura manda alto ne ha già fatto uno parte lui con il destro cambia angolo ma l'esito è sempre lo stesso partita due facce il puma domina il primo tempo con il 3 0 poi nella ripresa complice anche l'espulsione subisce la rimonta di caracciolo service